Si insedia il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari e si lavora al fine di superare le conflittualità interne alle toghe. Tra gli Avvocati del Pollino e quelli della Siberitide non corre buon sangue, sin dai tempi dell'accorpamento dell'ex Tribunale di Rossano a Castrovillari. In questi giorni, sulla base di una pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, che ha dichiarato inelegibili quattro componenti e rese effettive altri in quattro dimissioni, gli equilibri si sono ribaltati a governare i vertici dell'Ordine, non più la corrente del Pollino, ma quella del versante ionico. Sono ora maturi i tempi per superare ogni ostilità. Le prime voci, che essendo le prime impressioni che ricavo, sono abbastanza ottimiste da questo punto di vista, perché il Foro ha ben ricevuto questa nuova decisione, perché oltretutto c'è stata l'affermazione delle regole e non del consenso. Però, ripeto, la fase conflittuale ormai è alle porte alle nostre spalle. Dobbiamo solo guardare al futuro. Guardare al futuro consiste nella unione dei due ex fuori. Tra le prime operazioni in cantiere, i rapporti con i magistrati e le problematiche derivanti dalla pandemia. Il Tribunale ha deciso non più di consentire agli avvocati l'accesso libero alle cancellerie, come sembra avvenuto e come è venuto in tanti Tribunali d'Italia, ma ha ridotto ancora più i margini, nel senso che il transito, il contatto degli avvocati importantissimo con gli uffici avvenga solo tramite un front office con prenotazione telematica, quindi con perdita e disagi per la classe forense, indirettamente per la classe forense e indirettamente per i cittadini i cui diritti vengono tutelati da questi avvocati. Le problematiche derivanti dalla pandemia. Dal 30 marzo scorso i disagi sono stati in larga parte superati. L'ordine lavora nella direzione del superamento di ogni imperfezione. La pandemia tuttavia si è rivelata positiva per alcune forme di organizzazione. L'emergenza Covid ha tracciato un percorso con alcune iniziative lodevoli, che è giusto che rimangano. Per esempio quella che può essere la famosa trattazione iscritta delle udienze poco rilevanti, per le quali la presenza dell'avvocato non era necessaria, le famose trattazioni iscritte consentono la trattazione di un numero maggiore di cause in tempi molto più veloci.